Possibili aperture e ritorno alla zona gialla. Il presidente della regione Donato Toma guarda positivamente ad una ripresa. Termoli, nuovi posti letto per la terapia intensiva. Il comitato spontaneo Cacciamoli chiama i cittadini ad una nuova mobilitazione. L'iniziativa nasce per dar giustizia alle vittime morte a causa del virus. In aumento, gli appelli per bloccare la mega collata di cemento prevista sul tratto di mare tra Petacciato e Monte Nero, anche il basso Abruzzo interviene. Risorse del welfare e disoccupazione giovanile. Il Molise agli ultimi posti nella classifica nazionale per il 2020. Situazione ancora più aggravata oggi dalla pandemia. Buongiorno a tutti e ben ritrovati con l'informazione del giorno del telegiornale di TLT in apertura. Torniamo a parlare di sanità e situazione pandemica. Il presidente della regione Donato Toma ha parlato dei nuovi moduli aggiuntivi della terapia intensiva al Santimotio di Termoli e delle possibili riaperture delle attività economiche e dei vaccini, ma soprattutto della struttura commissariale. Ascoltiamolo. L'intervista al presidente Donato Toma spazia su vari temi, tutti attuali, che contemplano reazioni da intraprendere per meglio governare le vicende molisane legate all'emergenza da Covid. Primo di tutti i moduli aggiuntivi di terapia intensiva all'ospedale Santimotio di Termoli. Meno male che le nostre richieste di protezione civile all'allora commissario Arcuri, era il 4 novembre quando facemmo questa richiesta, sono state esaudite e le vediamo concretizzate. L'avevamo detto e l'abbiamo fatto. Ha anche affrontato il tema della zona gialla ed è la possibile riapertura delle attività economiche, a partire dai ristoranti da rendere disponibili sia a pranzo che a cena. Le attività economiche devono ripartire, non è più possibile attendere. Questo è il motivo per cui noi presidenti di regione stiamo facendo un pressing esasperato ed esasperante sul governo. Abbiamo redatto delle linee guida per le aperture in sicurezza, ci attendiamo oggi che il governo le accolga positivamente e che il Comitato Scientifico Nazionale le approvi in maniera tale che potremmo addirittura alla fine della prossima settimana riaprire. O da lunedì, magari fosse così. Stiamo lottando tutti insieme perché ciò avvenga. Lei sa come la penso io? Io penso che si potrebbe ripartire addirittura con i ristoranti a pranzi e a cena perché i ristoratori, i baristi, sono stati bravissimi a programmare in sicurezza le riaperture. I ristori non sono sufficienti a tenere su il morale e a mettere il piatto a tavola. I ristori sono per un breve periodo e ti possono aiutare a allenire questo dolore che le famiglie stanno subendo. Hanno bisogno di lavorare e noi presidenti dobbiamo lavorare per farli lavorare. Il presidente ha trattato anche il tema dei vaccini. Noi abbiamo vaccinato in prima dose 87.000 moli sani. Circa 13.000 moli sani si sono immunizzati perché sono guariti dal Covid. Se lei fa la somma superiamo i 100.000 immunizzati. Noi abbiamo una capacità media di 14.000 vaccinazioni settimanali. Se lei fa un po' di calcoli in due mesi arriviamo a circa 60.000 immunizzabili. Se li aggiunge agli oltre 100.000 noi in due mesi arriviamo a 120.000 immunizzabili. In un mese a 60.000 potremmo addirittura arrivare a 75-80% della popolazione. Dico potremmo perché dovremmo avere la sicurezza delle consegne. Le consegne non sempre sono precise. A volte slittano di qualche giorno, altre volte ce le tagliano. Se tutte queste condizioni si verificassero noi potremmo in due mesi raggiungere l'immunità di Greggia in Molise. Per ultimo ha voluto segnalare il lavoro futuro con la nuova struttura commissariale. Il clima io direi auspicabile, ottimo. Abbiamo iniziato con i passi giusti. Stiamo collaborando. Loro stanno lavorando secondo le loro funzioni, secondo i loro acta, come si suol dire, i compiti che hanno avuto dal governo. E noi cerchiamo di affiancarli come attività politica e depressing perché ci sono delle situazioni che soltanto la politica può risolvere. I commissari non bastano. Immagini l'azzeramento del debito. E procede dunque la somministrazione delle dosi giunte in regione del vaccino anti-Covid nelle ultime ore. Inoltre sono arrivate altre 3.500 di quello della Pfizer. Sino ad oggi sono state 88.366 quelle somministrate in regione. La percentuale si attesta all'86,51%. Ed ennesima inaugurazione del niente a Termoli. Sono state queste le dichiarazioni dell'ex presidente della regione Michele Iorio in merito ai nuovi moduli di terapia intensiva. Mentre l'attenzione dell'opinione pubblica è incentrata sulla fase della vaccinazione. In Molise siamo ancora alle prese con l'assenza di un centro dedicato al Covid. La consegna del container attrezzato prima a Campobasso ed ora a Termoli per i posti di rianimazione è uno spreco di denaro pubblico. È proprio sicuro che quelle stesse attrezzature non potevano quindi trovare posto in altri ospedali con 4 milioni di euro. Conclude così Michele Iorio. Era possibile forse fare di meglio. E chiama i cittadini ad una nuova mobilitazione sempre in sicurezza e nel rispetto delle norme il comitato spontaneo Cacciamoli. L'iniziativa è stata avviata per la verità e la giustizia sulle morti da Covid nei mesi scorsi ed è prevista per martedì 20 dalle 17.30 nei pressi del Tribunale di Campobasso. Andiamo a vedere. Tornano alla mobilitazione gli attivisti del comitato spontaneo Cacciamoli e lo fanno chiedendo il coinvolgimento comunque dei cittadini a partecipare naturalmente nella piena sicurezza e nel rispetto di norme e regole. Questa volta hanno scelto un luogo diverso dalle sedi della regione ma fortemente simbolico per la ricerca della verità e della giustizia. Il Tribunale di Campobasso. Il portavoce del comitato Emilio Izzo scrive «Riteniamo che sia un dovere morale e civile esserci spontaneamente. Come nostra abitudine non estenderemo inviti di sorta perché esserci attiene alla sensibilità dei singoli. Chi aspetta la chiamata o le riverenze non ha capito la gravità del momento e ancora peggio avrebbe in animo l'intenzione di sfruttare certe iniziative a scopo personale o elettorale. Aspetto che abborriamo nonostante crediamo anche nell'impegno amministrativo ma quest'ultimo non può e non deve essere anteposto alle lotte di civiltà. Speriamo vivamente che questo messaggio arrivi alle orecchie di tutti e che nessuno cerchi di cavalcare le disgrazie e le sventure. Saremo vigili e duri verso chi, come in queste ore, pur non avendo mosso un dito durante gli ultimi anni di intense lotte, crede di poter rifarsi l'anima candida sfruttando le fatiche e i dolori di chi non si è mai fermato in qualunque condizione ambientale e politica. L'appuntamento è per martedì 20 aprile alle 17.30 e la missione che annunciano dal Comitato Cacciamoli sarà quella di chiedere la verità e la giustizia per le vittime da Covid, per i parenti e per tutti i molisani afflitti da tanta irresponsabilità. E passiamo invece adesso brevemente alla cronaca. I carabinieri a Boiano hanno proceduto al controllo di alcuni giovani nel corso della quale un 21enne di Baranello è stato trovato in possesso di un tirapugni. Lo stesso aveva anche un involucro di marijuana di piccola quantità. Oltre alla segnalazione all'autorità prefettizia, è scattata anche la denuncia all'autorità giudiziaria per il porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere. Sempre a Boiano, poi un 21enne egistiano è stato trovato in possesso di un esiguo quantitativo di marijuana. Anche per lui è scattata la segnalazione. Eseguito in ultimo a Trevento un provvedimento restrittivo a carico di un 81enne residente a Salcito, asseguito in una condanna passata in giudicato nel 2009 per la quale sconterà adesso la pena di sei mesi in regime di detenzione domiciliare all'interno dell'abitazione di residenza. I carabinieri hanno individuato un millantatore residente in una regione del nord che dichiarandosi lecitamente un biologo nutrizionista aveva prescritto a diverse persone anche in Molise tramite le piattaforme informatiche e farmaci integratori esercitando così abusivamente la professione sanitaria. all'interessato è riuscito a farsi corrispondere mensilmente somme che oscillano tra i 150 euro e i 300 euro sulla propria poste per il furbetto. È stato così segnalato per i reati di esercizio abusivo della professione sanitaria e per truffa. E sono in aumento invece gli appelli per bloccare la mega colata di cemento prevista sul tratto di mare compreso tra Petacciato e Montenero. La questione ambientale così si allarga anche alla vicina Abruzzo. Ma andiamo a vedere. Una mega speculazione per un concetto di turismo superato è controproducente. Il problema non è solo ambientale ma anche economico, culturale e politico. È preoccupante l'immediato chinarsi della regione Molise e il comune di Montenero di Bisaccia. Sinistra italiana del Vastese si attiverà per evitare questo scempio affinché anche la regione Abruzzo batta un colpo. Il progetto di cementificazione della spiaggia di Costa Verde nei pressi della foce del fiume del Trigno prevede centri commerciali, ville di lusso, ristoranti, alberghi, torri di 25 piani e che occuperanno 160 ettari di suolo a ridosso del mare e 5 milioni di metri cubi di cemento. Intanto il partito del coordinatore Claudio Di Vincenzo si chiede perché fino a questo momento non si sono espressi gli altri importanti comuni che si affacciano sul mare Adriatico da Termoli a Petacciato, da Vasto a San Salvo su un totale di circa 35 chilometri di costa da Montenero a Campomarino in cui quasi la metà risulta già trasformata a usi urbani e infrastrutturali. Il progetto Sud Beach sarebbe il colpo di grazia dello stesso avviso anche Lega Ambiente dice quindi no al progetto. La sorpresa aumenta ricordando l'atteggiamento che hanno avuto sia l'ente regione che l'amministrazione di Montenero nel contrastare la realizzazione del parco eolico a largo dell'Adriatico la cui torre più vicina alla terraferma era posta a 6 chilometri giustificando tale scelta in nome della tutela dei valori paesaggistici della costa molisana. E adesso ci spostiamo il coordinatore delle associazioni presenti nella sede dell'ex lavatoio di Sernia Celeste Caran ci spiega le ragioni della lotta contro la volontà del Comune di revocare la concessione dei locali a loro destinati dall'amministrazione Brasiello. Ma ascoltiamo. Prima che iniziasse questa concessione ed è scritto nella delibera dell'Aggiunta Comunale Brasiello che ci diede che fece questa concessione si facevano mediamente tre eventi all'anno nel lavatoio. Tre mediamente. Si è passato quindi da tre eventi l'anno a sede di 24 associazioni. Quindi voglio dire che cos'è che... E questo senza che il Comune ha speso un solo centesimo. Abbiamo fatto tutto a spese nostre anche i lavori. Il Comune non ha avuto alcuna onere finanziaria. Abbiamo salvato questo spazio da una privatizzazione perché era stato fatto un bando per metterlo in fitto per concederlo in legime di fitto. Noi ci opponemmo a questa cosa dicendo ma scusate abbiamo poche strutture eserne valide per fare attività culturali, sociali, eccetera. Salviamo qualcuna si può anche fittare perché non aveva grande pregio storico, artistico, architettonico. Il lavatoio invece fa parte della memoria della città. Salviamolo. Noi lo abbiamo salvato. Dovrebbero ringraziarci. La città dovrebbe essere grata per questo lavoro che noi abbiamo fatto in questi anni. Altrimenti in quello spazio ci sarebbe ad oggi un altro ennesimo pub, un altro bar, un altro locale di quel tipo là. Ma che vogliamo? Che Senia ci si ubriachi soltanto e si esca soltanto per andare a bere nei bar senza nulla togliere il lavoro al lavoro dei baristi e dei gestori. Ma creiamo, noi diciamo, creiamo delle altre punti di riferimento per la città, per i giovani, per fare attività creative, attività artistiche, attività sociali. Non togliamo quello che c'è. Perché se va avanti il progetto di questo assessore quello spazio sarà chiuso e non si riaprirà più. Le merlettaie non ci vogliono andare e questo è il dato fondamentale. La stragrande maggioranza ha detto che non vuole andarci. E la Lega del Sindacato Pensionati al Tomolisi, aderente alla CGL, esprime anch'essa disappunto riguardo la vicenda legata alla sede del Circolo Arci di Serni all'ex lavatoio che vede il ritorno di detto locale nella disponibilità del Comune di Serni a un atto di solidarietà anche alle altre associazioni no profit che usavano i locali per regioni ed attività culturali e sociali che sono state di fatto allontanate da un luogo che hanno contribuito negli anni ad essere recuperato e reso adeguato ad una positiva funzione aggregativa. E tra gli ospiti del programma Il Molise che va condotto per noi da Michele D'Alessio in onda questa sera alle 21 e replica domani pomeriggio alle 15.30 c'è anche l'ex presidente della Camera di Commercio di Sernia che si esprime criticamente sulle scelte del Governo Centrale di impoverire così le istituzioni locali. Ma andiamo a vedere adesso un estratto. Agostino Angelaccio per quasi 15 anni Presidente della Camera di Commercio di Sernia quella Camera di Commercio che oggi è ridotta così così cosa ne pensa di quello che è successo non solo alla Camera di Commercio ma anche alla provincia di Sernia? io sono profondamente dispiaciuto di questa situazione perché io dico che un presidente all'epoca del Consiglio Renzi ha rovinato proprio tutte le Camere di Commercio e naturalmente pure le province non rendendosi conto della realtà io non ho capito qual era il suo obiettivo ma lui non si è rese conto che le Camere di Commercio sul territorio fanno un servizio notevole a tutti i piccoli imprenditori che operano non è che sono iscritti perché l'ha voluto qualcuno perché seguono certe leggi e certe disposizioni e quindi a mio avviso le imprese andrebbero ancora tutelate nel modo migliore il fatto che l'impresa non voglia non debba pagare più uno 0,10 o 0,20 per i servizi e a discapito invece della stessa imprese e non lo so è un errore grosso che poi se abbinato alla chiusura delle province fa l'unplenne della situazione in quanto non è possibile che pure le province debbano essere ridotte a una gestione più che o meno solo amministrativa e senza economia se uno si discuteva prima per quanto riguarda la viabilità ma se non ci sono i cantonieri non ci sono i soldi non ci sono più le risorse non si fa da nessuna parte se dovesse buttare se dovesse buttare da una torre la provincia la camera di commercio la regione chi butterebbe giù per prima la regione e perché e perché la regione nella situazione in cui stiamo adesso credo che debba trovarsi un nuovo ruolo probabilmente un allargamento perché consentirebbe anche di vivere meglio al nostro Molise un progetto più ampio che guarda al futuro con più attenzione soprattutto mi riferisco a livello infrastrutturale ma a motivo di esistere la regione o sarebbe il caso che ritornasse specialmente la sanità tutti in mano allo Stato? Penso che sia meglio tornare in mano allo Stato soprattutto per le esperienze che abbiamo vissuto per questi commissari è inconcepibile che da Roma ci mandano dei commissari che vengono ben retribuiti non combinano nulla nulla proprio e poi tutto sommato noi non abbiamo l'assistenza se questa è la situazione è meglio lo Stato E parliamo adesso di risorse del welfare il Molise agli ultimi posti sempre più alto il tasso di disoccupazione giovanile e dispersione scolastica la pandemia poi ha ulteriormente aggravato il problema ma andiamo a vedere il servizio sempre più allarmanti i dati riguardo il tasso di disoccupazione e dispersione scolastica in Molise non va bene nemmeno la situazione del welfare e risorse scarseggiano dati questi che impongono serie riflessioni riguardo la gestione da parte della macchina politica e gestionale i numeri parlano chiaro il Molise si è classificato nel 2020 al sedicesimo posto tra le regioni italiane per efficacia e capacità di risposta del sistema di sostegno alla popolazione il dato emerge dalle classifiche del welfare Italia Index 2020 indicatore sintetico di misurazione delle performance sui territori in termini di politiche sociali sanità prevenzione e formazione La spesa media regionale per utenti e fruitori degli asili nido è di soli 2.716 euro pro capite la metà del valore mediano nazionale che è di 5.538 euro scarse anche le risorse locali destinate alle politiche sociali al tempo stesso però la regione risulta nelle prime posizioni dei parametri di risorse pubbliche per la spesa sanitaria per i consumi finali per l'istituzione e la formazione in percentuale sul PIL regionale inoltre è stato rilevato che il territorio presenta un numero di pensionati per ogni 100 abitanti superiori alla media nazionale molto da fare anche sulla partecipazione dei cittadini al mercato del lavoro in particolare per i più giovani il tasso di disoccupazione è pari al 12,2% dato che posiziona il Molise agli ultimi posti così come il tasso di dispersione scolastica 23% contro il 18% come valore mediano italiano insomma la situazione degli anni precedenti non era incoraggiante ma la pandemia dell'ultimo anno ha di fatto aggravato ulteriormente le cose e sono molti quelli che soprattutto i possessori di partita IVA sono in cerca di occupazione a causa della chiusura o limitazione delle proprie attività lavorative e l'importanza dell'inclusione del benessere fisico il CIP Molise racconta i valori paralimpici all'incontro del ciclo insieme in forma organizzato dalla struttura Gemelli ma andiamo a vedere l'intervista Contributo rilevante del CIP Molise all'incontro insieme in forma alla fisioterapia del cuore il presidente del comitato paralimpico Donatella Perrella ha partecipato al webinar organizzato dal Gemelli Molise catalizzando l'attenzione sull'importanza di portare nel mondo della disabilità l'attività fisica per il benessere non solo del corpo ma anche dell'anima spazio al tema della riabilitazione per migliorare la qualità della vita soprattutto dopo l'intervento chirurgico e per prevenire determinate patologie poi l'ente di ingrandimento sullo sport paralimpico una persona che vive una disabilità se si avvicina allo sport lo fa per due motivi ha sottolineato il presidente del CIP Molise Donatella Perrella per stare in compagnia uscendo così dall'isolamento a cui è stato indotto forzatamente o dall'infortunio o dalla malattia e per cercare una condizione di benessere e di salute che l'attività fisica può garantire essendo prevenzione e cura pure per lo spirito il CIP ha continuato il vertice del comitato in Molise si è sempre rinnovato nel tempo tanto che lo sport paralimpico si è mostrato all'avanguardia nella percezione e nel racconto della disabilità esso va praticato con regolarità assumendo degli impegni si reagisce più facilmente alla malattia e alla invalidità noi cerchiamo di promuovere la salute fisica e mentale e il benessere un contesto nel quale è concluso il vertice del CIP Molise Donatella Perrella e doveroso fare rete per abbattere barriere culturali e fisiche L'amministrazione comunale di Campobasso rende noto che gli impianti di riscaldamento possono essere disattivati anche tra pochi giorni in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio senza alcuna autorizzazione dal comune resta inteso che i suddetti impianti non possono restare accesi oltre sette ore al giorno e con una temperatura che non deve superare i 20 gradi Avrà luogo domenica in 160 città italiane fra cui anche a Disernia la manifestazione denominata Plastic Free che ha lo scopo di eliminare dall'ambiente oltre 100.000 chili di plastica L'associazione oltre alla raccolta effettuerà anche sui territori la segnalazione di rifiuti abbandonati in maniera abusiva l'attività di raccolta di quelli non pericolosi nonché l'informazione e la sensibilizzazione sulle tematiche ecologiche e ambientali ma andiamo adesso a vedere le previsioni del meteo La gamma commerciale tutta l'energia che ti serve specialisti delle batterie e degli accumulatori e inviale Olanda nella zona industriale di San Salmo Prevalenza di cielo coperto oggi sul Molise le temperature sono compresse tra la minima di 0 gradi a Campobasso e la massima di 13 gradi a Disernia venti deboli provenienti da nord-ovest poco mosso il medio adriatico precipitazioni piovose con valori climatici stazionari domani sulla regione e passiamo alla nostra pagina sportiva i laziali del Cinzialba Longa perdono l'occasione per accorciare le distanze con il notaresco e il Campobasso solo un pareggio contro il Pineto nel turno infrasettimanale di Serie D ma andiamo adesso a vedere Nell'infrasettimanale valido per la ventisesima giornata i Biancazzurri pareggiano per 1-1 sul campo della Cinzialba Longa Calcio d'inizio per i padroni di casa partono fortissimo gli ospiti Cernaz in buca per Romano Miracolo di Santilli sulla ribattuta Minnozzi trova un salvataggio sulla linea reclamando un tocco un melandrino di mano della retroguardia di casa ancora Cernaz un giro di lancetto e dopo si accentra e conclude sfera alta di poco sempre la truppa del presidente Brocco sfiora nuovamente il vantaggio sul calcio d'angolo Esposito non ci arriva per un nulla alla mezz'ora ancora i Terramani vanno vicinissimi allo 0-1 Mesisca in conna Santilli salva sulla linea la risposta Castellana arriva al quarantesimo su calcio d'angolo Gagliardini conclude di prima palla fuori di un nulla una ripresa ancora il Pinetto a cercare il vantaggio Romano a tu per tu con Santilli sceglie il tocco di fino bravo all'estremo di casa a rimanere freddo e deviare la sfera al settantesimo altro episodio da Moviola Bubà appena entrato si invuole in aria scavalca Santilli terminando a terra per Peletti di Crema tutto regolare al settantatresimo passano in vantaggio i padroni di casa su calci punizione la sfera arriva Gagliardini che davanti a Mercorelli in una carambola a confezione all'1-0 pesanti le proteste dei Terramani per posizione di offside del numero 4 gli abruzzesi non ci stanno Mininkleri serve esposito offendente per Mastrippolito che trova ancora un reattivo Santilli gli sforzi dell'undici Adriatico vengono premiati a 5 minuti dal termine su azione manovrata l'assistman della quercia pesca Mininkleri che sulla linea non può proprio sbagliare nel finale non succede più nulla Cinzelba Longa e Pinetto si dividono la posta per 1 a 1 il suo esterno allo stadio Aragona di Vasto sale così a 40 punti quinto posto nel Gironefe per la formazione di Corrado Urbano dopo 45 giorni Lavastese torna in campo all'Aragona con diverse defezioni assenti ben 4 titolari e cade contro un cinico e ben organizzato Matese che vince 2-1 grazie alle reti di Abreu e Galesio sul rigore con le immagini di Odoardo D'Addario passiamo agli lights del match nei padroni di casa D'Addario schiera un rimaneggiato 4-4-2 negli ospiti che vengono da 14 risultati utili consecutivi va in panchina l'ex di giornata Roberto Felici pronti partenza via la primo affondo passano i campani al sesto bella azione palla a terra che libera Abreu il numero 11 la piazza e batte Boccanera per l'1-0 il gol merita il rallenti la risposta della Vastese arriva al diciottesimo con una conclusione da fuori di Obodo tiro centrale facile preda di Palombo i padroni di casa ci riprovano al 26esimo con Mamona il numero 10 la piazza da fuori palla di poco a lato al 42esimo episodio da Moviola nel momento migliore dei locali Boccanera tocca Abreu dopo un'uscita poco precisa il direttore di gara non ha dubbi ed indica il dischetto questo il presunto contatto sul punto di battuta va Galesio che spiazza l'estremo bianco-rosso e fa 2-0 si va a riposo con questo risultato nella ripresa i padroni di casa cercano di rindirizzare la gara al Nono Martinez su punizione fulmina Palombo e accorcia le distanze il gol del 2-1 merita il replay calcio piazzato simile a quello segnato dallo stesso numero 7 contro il campo basso al 21esimo si rivedono i campani dalle parti di Boccanera con una punizione che non crea problemi al numero 1 locale pressione costante dei bianco-rossi al 36esimo tiro velenoso di Martinez Palombo si distende e respinge da qui a fine gara non succede altro i locali vengono sconfitti ma escono a testa alta dal campo dopo una gara tutto cuore per gli ospiti arriva il 15esimo risultato utile consecutivo e volano a quota 40 centrando così l'obiettivo salvezza con grande anticipo la Federcalcio Molisana ha organizzato in collaborazione con l'associazione italiana Arbitri il corso arbitro scolastico rivolto agli studenti degli istituti superiori l'iniziativa rientra nell'ambito del progetto nazionale Valori in Rete il corso della durata di 12 ore sarà svolto con delle lezioni online sono 28 i ragazzi che partecipano al progetto appartenenti a 5 istituti scolastici regionali con Vitto Mario Pagano l'istituto omnicomprensivo di Casa Calenda il liceo Galanti il liceo scientifico Romita di Campobasso e Boiano le lezioni termineranno giovedì 29 aprile e tre equipaggi automobilistici molisani partiranno per il rally dell'Isola d'Elba evento toscano giunto alla sua 54esima edizione prima gara del campionato italiano fari puntati quindi su Giuseppe Testa a bordo della sua Scoda Fabia R5 ed ancora i due termolesi Gabriele Recchiuti e Giuseppe Mariano entrambi al volante con una Peugeot 208 il programma di gara prevede la partenza pomeridiana di Porto Ferraio e la conclusione domani dopo circa 100 chilometri di prove speciali e con questa notizia di sport è tutto concludiamo qui l'edizione del giorno del telegiornale di TLT o come sempre vi ringrazio per la cortese attenzione e vi rimando alle prossime edizioni arrivederci grazie a tutti